Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Due persone, Giovanni Tabacchi ed Elena Bortoluzzi di 75 e 52 anni, sono morti all'interno della loro abitazione a Pieve di Cadore, nel Bellunese, in seguito al fumo provocato da un incendio. I due corpi sono stati trovati insieme a quello del cane della coppia nella zona notte al piano terra della casa. L'allarme è stato dato verso la mezzanotte da una donna che si è accorta del fumo molto denso che usciva dalla casa dei due, nella frazione di Sottocastello. Dopo aver provato a suonare e a chiamare inutilmente, le due persone ha avvertito i vigili del fuoco che hanno la stazione poco distante. Una volta sul posto, i pompieri hanno fatto la tragica scoperta dei due corpi ormai esamini e tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le cause che hanno innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti, hanno collaborato anche personale del 118 e carabinieri. Parliamo di un incidente stradale avvenuto oggi a Sandonà di Piave. Coinvolti vari mezzi, grave il bilancio, 5 le persone ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.30 di lunedì per un incidente stradale tra due automobili e un furgone lungo via Triestina-Musile di Piave. Cinque i feriti, a scontrarsi per causa in corso di accertamento una Hyundai Atos, una Ford Focus e un furgone Ford Transit, coinvolto anche un altro camioncino frigo, toccato solo di striscio. Tre mezzi sono finiti fuori dalla careggiata nei canali di scolo adiacenti la strada. I pompieri di Sandonà hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due persone rimaste bloccate all'interno dell'utilitaria coreana. La coppia a bordo della Ford Focus e l'autista del furgone, anche se feriti, sono riusciti autonomamente a uscire dai veicoli. Tutti i feriti sono stati presi in cura da personale sanitario del 118 e portati in ospedale. La polizia locale di Musile di Piave ha effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. I carabinieri di Lendinara hanno notificato a madre e figlio rispettivamente di 55 e 27 anni un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare per continui maltrattamenti nei confronti di una donna di 85 anni affetta da morbo di Alzheimer, madre della prima e nonna del secondo. Le indagini svolte con estrema cautela dai carabinieri hanno portato a scoprire un quadro desolante fatto di maltrattamenti e vessazioni nei confronti dell'anziana signora. Sulla base dei dati raccolti il magistrato polesano ha emesso la misura cautelare nei confronti dei parenti dell'anziana loro convivente. Nell'indagine risulta indagata anche la nipote, 18enne dell'anziana, che ha avuto un ruolo minore nelle vessazioni. La fidanzata gli annuncia la rottura del rapporto e lui, un marocchino di 25 anni, le incendia la casa. È successo ieri sera a San Giorgio di Livenza. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Caorle. Il fuoco, innescato con una tannica di benzina, è stato domato dai vigili del fuoco di San Dona e di Porto Gruaro. Una volta scoppiate le fiamme, la donna è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare aiuto. Per l'appartamento però non c'è stato nulla da fare. I pompieri hanno lavorato fino all'alba per procedere con tutte le verifiche, mettendo in sicurezza il locale Caldaie. Parliamo di un'operazione antidroga. Un corriere palermitano è stato arrestato a Vicenza. Sentite. La polizia di Stato ha arrestato a Vicenza un corriere della droga, Giuseppe De Luca, 38 anni, residente a Villa Bate, nel Palermitano. Le indagini sono state coordinate dagli uomini della squadra mobile di Palermo, diretti da Rodolfo Ruperti, in collaborazione con la polizia di Vicenza. De Luca è stato bloccato in un magazzino mentre caricava su un furgone 90 kg di hashish. Altri 20 kg sono stati trovati in una golf. Giuseppe De Luca è stato rinchiuso nel carcere di Vicenza, la droga sequestrata. Parliamo di un'altra operazione antidroga. Ci spostiamo però a Verona. L'intensificazione del dispositivo di controllo doganale predisposto dalla Guardia di Finanza all'aeroporto, Valerio Catullo, ha permesso di conseguire un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. L'abilità e l'esperienza dei finanzieri, unite a una mirata attività di analisi info-investigativa riguardanti i voli in arrivo e in partenza dallo scalo veronese, hanno permesso il sequestro di un rilevante quantitativo di eroina. Borsa italiana non approva la quotazione in borsa della Popolare di Vicenza. Lo si legge in una nota in cui precisa che non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato. E adesso parliamo di un incidente stradale che davvero ha del miracoloso. Una donna questa mattina è finita con la sua auto dentro ad un canale. È riuscita da sola ad uscire dalla macchina e a mettersi in salvo. Una donna si è miracolosamente salvata dalla sua auto finita in un canale. È successo a Lozzo a Testino lunedì prima di mezzogiorno. La signora, 58 anni del luogo, ha perso il controllo della Fiat Punto di cui era alla guida, finendo rovesciata nel canale adiacente la careggiata. È riuscita a sganciarsi le cinture e venire fuori dall'auto, aiutata da un signore del posto che ha assistito all'incidente. I pompieri di Este e Padova, intervenuti anche con l'autogru, hanno recuperato il mezzo. La donna è stata portata in ospedale per un controllo. L'intervento è terminato dopo circa due ore con la messa in sicurezza del luogo. Parliamo di un altro incidente stradale avvenuto ieri sera dopo le 19.30. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ardonega-Bruggine per un'autovettura con una giovane coppia del posto all'interno, finita contro il muro di cinta di un'abitazione. I pompieri hanno estratto la ragazza, rimasta incastrata all'interno della macchina una Opel Astra, mentre il ragazzo era già stato preso in cura da personale del 118. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118 che ha trasportato il giovane all'ospedale, mentre la ragazza è stata trasferita in ambulanza. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia e il dirigente della protezione civile e locale hanno siglato oggi un protocollo di intesa operativo per il miglioramento dei tempi e le modalità di intervento di soccorso tecnico urgente nell'isola di Sant'Erasmo a Venezia. Con questo protocollo verranno gestite tutte le evenienze legate a incendi di sterpagli, arbusti, abitazioni ed eccezionali eventi meteo e in generale gli avvenimenti a carattere incidentale non prevedibili che rientrano nell'ambito dell'attività della protezione civile. A supporto della loro operatività i vigili del fuoco potranno contare sul presidio operativo della protezione civile nell'isola in località Cappannone, costituito da un fabbricato in concessione alla protezione civile comunale dell'ex magistrato delle Acque. Inoltre è disponibile alle squadre dei vigili del fuoco anche un automezzo 4x4 allestito in modo speciale. E adesso è arrivato il momento, come tutte le sere, di dare la linea all'esperto tributarista Alberto De Franceschi per il fisco in 60 secondi. Oggi parliamo di conguaglio fiscale. Il conguaglio fiscale è il calcolo definitivo delle imposte IRPEF e addizionali versate dal lavoratore o dal pensionato che poi il datore di lavoro è tenuto a calcolare ed effettuare per fine anno. In sede di conguaglio può risultare un credito o un debito. Un credito a favore del lavoratore se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga. In questo caso le maggiori ritenute applicate nell'anno sono rimborsate direttamente al dipendente tramite il cedolino paga. Un debito invece se l'imposta dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga. Anche in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese di conguaglio. Attenzione che se una persona ha due certificazioni uniche, gli ex-cud, perché ha percepito due redditi o più in un anno ha l'obbligo di presentare il modello 730 per conguagliare le imposte. E quando si parla di due redditi si comprende anche quanto percepito per esempio per la disoccupazione e per la cassa integrazione. Comunque anche se generalmente l'operazione viene conclusa con la busta paga di dicembre il datore di lavoro ha tempo fino al 28 febbraio per fare tutte le dovute operazioni di conguaglio. Controllate sempre bene le vostre buste paga pertanto. Buonasera. E adesso uno sguardo alla situazione climatica prevista. Completato il transito di una profonda depressione con aria fredda sul bacino del Mediterraneo la pressione tendenzialmente aumenta. Il persistere di una moderata area ciclonica sull'Europa centro-orientale favorisce una residua variabilità sulla nostra regione ma con spazi di sereno anche ampi, specie nella giornata di mercoledì e giovedì. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS